Oroscopo del giorno, lunedì 25 gennaio 2021 Ariete Amore, in questo ultimo lunedì del mese di gennaio non ci saranno grandi novità per quanto riguarda le questioni amorose. Potreste stare tranquilli anche perché gli animi potrebbero riscaldarsi proprio nei prossimi giorni. Occhi aperti Lavoro, le energie saranno buone ma probabilmente nulla di esagerato. Bene il proseguimento di un progetto. Toro Amore, la nuova settimana si aprirà con una certa agitazione e quindi sarà importante cercare di gestire tutto al meglio. Con il partner potrebbero nascere discussioni proprio a partire dalla sensazione di tensione. Lavoro Non è detto che riuscirete a concentrarvi troppo oggi. Potrete dedicarvi a qualche compito che vi piace particolarmente. Gemelli Amore, ottima giornata per godersi i sentimenti di coppia. Questo è un periodo veramente speciale per le emozioni e per chi condivide un rapporto affettivo molto speciale. Potrete aprire il vostro cuore a chi amate veramente. Lavoro, oggi tutto ok ma da domani potrebbero iniziare le prime incomprensioni sul posto di lavoro. Cancro Amore, che siate impegnati in una relazione di coppia oppure no, questa giornata dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Ci sarà un buon recupero in determinati rapporti dove magari le cose non funzionano esattamente come speravate. Lavoro, nessun problema con i colleghi o con gli impegni di lavoro. Tutto andrà come deve. Leone Amore, da oggi porrete la vostra attenzione sul lato sentimentale e sui rapporti affettivi. Probabilmente dovrete riflettere su alcuni aspetti delle relazioni di coppia e poi per questo potreste arrivare a fare una scelta con il vostro partner. Lavoro, poco movimento per quanto riguarda le novità. Dovreste concentrarvi di più sui vostri obiettivi professionali. Vergine Amore, il lunedì non partirà con il massimo dell'entusiasmo quindi sicuramente dovrete un po' controllare l'umore. Il pessimismo potrebbe influenzare certe relazioni amorose ma presto le cose cambieranno e tutto andrà meglio. Lavoro, la attenzione di farà compagnia pure sul posto di lavoro e questo potrebbe complicare le cose. Bilancia Amore, questa giornata di fine gennaio sarà abbastanza tranquilla perché è impegnato sentimentalmente. Difficilmente ci saranno grossi problemi e grandi disagi per gli innamorati. Poche novità anche per chi ha il cuore libero. Lavoro Le energie saranno veramente alte in questo lunedì e quindi potrete dare il massimo. Avanti progetti e idee Scorpione Amore Lunedì poco interessante per i sentimenti e le emozioni vere. Questa giornata potrebbe essere un po' complicata perché potrebbero venire a galla dei vecchi problemi di una relazione che non si erano risolti del tutto. Attenzione Lavoro Non ci saranno grandi cambiamenti. Sarete concentrati soprattutto sulla vostra sfera intima. Meglio non dimenticare i progetti professionali. Sagittario Amore Capricorno Amore Amore In questa giornata di fine mese saranno poco entusiasmanti le faccende amorose. Chi vive una relazione e si ama sinceramente potrà confidare nelle stelle. Dovrebbe essere un lunedì abbastanza tranquillo con poche novità. Lavoro Dovreste curare un po' di più determinati equilibri e discorsi con colleghi e collaboratori. Acquario Acquario Amore Tutto tranquillo in ambito amoroso. Se avete intenzione di fare nuove conoscenze o avete già una persona accanto, per oggi non sono prediste grandi novità con i sentimenti. Codersi le emozioni in modo leggero e sereno. Lavoro La nuova settimana di gennaio dovrebbe partire piuttosto bene. Per qualcuno potrebbero esserci delle belle occasioni lavorative. Pesci Amore Attenzione a questa giornata perché potrebbe esserci un cambiamento importante o una scelta fondamentale per un rapporto. Questo potrebbe modificare certi equilibri, portare novità troppo grandi e magari difficili da gestire. Lavoro Per qualche pesciolino potrebbe esserci qualcosa di nuovo in arrivo. Forse qualcosa di inaspettato. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Per qualche pescioli